Gli arpeggi melodici rappresentano una componente fondamentale nell'improvvisazione chitarristica perché offrono un'incredibile gamma di possibilità espressive e consentono a noi chitarristi, e non solo, di creare sonorità ricche, originali e personali. Conoscere le diteggiature degli arpeggi melodici per la chitarra è fondamentale per diversi motivi che vanno oltre il semplice aspetto tecnico. La mia risposta a queste esigenze è il corso Arpeggio Master A. Strutturato per aiutare tutti i chitarristi a migliorare la tecnica, l'espressività, la versatilità, la conoscenza, impattando in modo incredibile sulla parte improvvisativa e compositiva. Il percorso di Yama Arpeggio Master è strutturato in quattro corsi che ho organizzato in moduli e unità didattiche. Modulo teoria, modulo arpeggio a tre voci, arpeggio a quattro voci e il modulo arpeggio avanzati. Avrai a tua disposizione oltre 80 lezioni e ti accompagnerò per sei ore di video lezioni, tutte trascritte in box, tablatura e pentagramma, con decine di basi ed esempi musicali. Lascia che ti spieghi nei prossimi minuti perché conoscere gli arpeggi melodici è così importante. Parleremo di espressività, precisione ed efficienza tecnica, versatilità nei generi musicali, utilizzo di triadi, tetra, di accordi a cinque voci e pentatoniche, facilità di utilizzo e sovrapposizione a cordali, improvvisazione e composizione, sviluppo della tecnica e approfondimento della comprensione musicale. Gli arpeggi melodici forniscono una base melodica su cui costruire e sviluppare idee improvvisative. Ci permettono di esplorare, attraverso le note di una triade o di accordi più complessi, linee melodiche fluide e articolate. Lavorando sulle sovrapposizioni a cordali, possiamo poi veicolare una grande varietà di colori musicali. Le diteggiature degli arpeggi melodici determinano il modo in cui le dita si muovono sulla tastiera della chitarra durante l'esecuzione. Una conoscenza precisa delle diteggiature ci consentirà di eseguire gli arpeggi in modo fluido ed efficiente, riducendo al minimo lo sforzo e ottenendo una migliore precisione, definizione, incisività e un suono più bello e piacevole per chi ci ascolta. L'apprendimento e la pratica delle diteggiature degli arpeggi contribuiscono allo sviluppo della tecnica chitarristica in generale. Attraverso l'esecuzione regolare di diverse diteggiature migliorerai la tua tecnica, o meglio ancora, le tue tecniche, visto che vengono messe in campo tecniche come hybrid picking, sweep and economy picking, string skipping, legato e palm muting. Gli esercizi ti porteranno a migliorare la coordinazione delle dita e tra le mani, la velocità e la precisione e la resistenza, che sono tutti elementi essenziali per diventare musicisti più competenti e sicuri. Le diteggiature degli arpeggi melodici possono variare a seconda del genere musicale eseguito. Ad esempio, le diteggiature degli arpeggi utilizzati nel jazz potrebbero differire da quelle utilizzate nel rock o nella musica classica. Conoscere un'ampia varietà di diteggiature ti permetterà di adattarti facilmente a diversi stili musicali e di ampliare il tuo vocabolario tecnico. Le triadi sono fondamentali nell'armonia musicale e costituiscono la base della costruzione degli accordi a più voci, che sono, nella quasi totalità dei casi, sovrapposizioni di terze. Nell'improvvisazione, utilizzare le triadi come punto di partenza per gli arpeggi melodici offre una solida struttura armonica su cui basare le proprie esplorazioni melodiche. Le triadi possono essere eseguite in varie posizioni sulla tastiera della chitarra, utilizzando lo stato fondamentale, i rivolti e le forme late, e ti consentiranno di esplorare diverse sonorità e di adattarti alle esigenze armoniche del brano o della situazione musicale, creando delle texture armonico-melodiche incredibili. Le diteggiature degli arpeggi e, conseguentemente, la loro sonorità possono influenzare non solo l'espressione, ma anche l'interpretazione musicale. Ad esempio, alcune diteggiature favoriscono l'uso di legature e vibrato per aggiungere colore e dinamiche emotive all'arpeggio. Alcune diteggiature sono riconducibili alle scale pentatoniche o alle scale diatoniche, permettendoti di passare agevolmente dalle scale agli arpeggi e viceversa. Riuscirai quindi ad esprimere pienamente le tue intenzioni musicali e sonore e riuscirai a trasmettere emozioni attraverso la musica e la tua chitarra. La familiarità con gli arpeggi ti consentirà di espandere i colori musicali consapevolmente, aggiungendo estensioni molto colorate e, diciamo così, profumate, creando progressioni melodico-ormoniche più complesse e interessanti, arricchendo così le tue composizioni originali e le tue improvvisazioni. Esaminare e applicare gli arpeggi ti permetterà di approfondire la tua comprensione dell'armonia e della teoria musicale. L'analisi delle diteggiature ti consenterà di comprendere meglio la struttura degli accordi e la relazione tra le note, fornendo una base solida per l'improvvisazione, la composizione e l'arrangiamento musicale. In conclusione, conoscere approfonditamente gli arpeggi melodici è essenziale per ogni chitarrista, indipendentemente dal genere musicale preferito. Tutto questo e tanto di più è Ama Arpeggio Master.